Sabato 8 e domenica 9 giugno si svolgerà l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento europeo e in 26 comuni dell'Aretino anche il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. 55 candidati a sindaco pronti a darsi battaglia. Con il via libera alla possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci compresi entro i 15.000 abitanti, nell'Aretino in molti hanno colto questa occasione. Tra le curiosità di questa tornata elettorale i quattro candidati sindaco che correranno da soli e l'Onora Ducci a Talla, Emanuele Ceccherini a Ortignano Raggiolo, Franco Doria a Sestino e Marco Ermini a Castiglion Fibocchi. La loro elezione sarà valida solo se andrà a votare il 40% degli aventi diritto e ogni candidato porterà a casa il 50% dei voti, altrimenti sarà commissariamento con elezioni tra un anno. Tra i comuni sotto i 15.000 abitanti c'è il caso di Subbiano. Qui la battaglia si annuncia agguerrita con ben 5 candidati a sindaco. I comuni invece con più di 15.000 abitanti e quindi destinati ad un eventuale turno di ballottaggio, se nessun candidato raggiungerà la maggioranza al primo turno, sono Cortona e San Giovanni Valdarno. Il caso più caldo resta quello di Cortona in 5. sono in lizza per la poltrona di sindaco. I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno.